we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime notizie per quello che riguarda il futuro di fortnite e quello che è successo nelle ultime 24 ore vedremo un nuovo ban incredibile fatto da ip games parleremo anche della patch 12.60 e di tante altre curiosità prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi un'immagine che tutti abbiamo visto che conosciamo il kingsman ragazzi l'ombrello leggendario che ha lo spawn rate più alto di quella delle pistole comuni nei forzieri leggendari ha una modifica importante o meglio parla direttamente dal tweet fortnite status è stato disabilitato quindi kingsman momentaneamente non più presente nel battle royale tra l'altro per la gioia di molti di voi visto che è un bel po che me lo dite ogni volta che mi trovate in live la missione di sky che ci chiedeva di ripararci con l'ombrello dai colpi degli avversari verrà automaticamente data a tutti quindi ragazzi non preoccupatevi se ci fosse qualcuno che ancora non ha sbloccato la variante di sky ombre o da adesso lo potrà fare quindi tanta tanta roba ci aspettiamo di rivederlo molto probabilmente con l'arrivo del nuovo aggiornamento e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi si parla delle sfide di questa settimana sì perché sebbene non è chiarissimo il discorso aggiornamento è chiarissimo il fatto che questo giovedì se non ricordo male arriverà il secondo ed ultimo blocco di sfide dominio quelle che praticamente danno un milione e 650 mila punti esperienza in questo momento vi sto facendo vedere tutto l'elenco delle sfide tra parentesi come state notando troverete le varie mini sfide mi spiego meglio la prima per esempio eliminare gli scagnozzi al pozzo la prima tre scagnozzi 15 mila punti la seconda 5 25 mila punti la terza 10 55 mila punti ne abbiamo altre di sfide molto interessanti a piazzarsi nella top 10 dopo essere atterrati alla fattoria ce n'era una simile sul molo la scorsa settimana oppure ad esempio fai danno ai giocatori a salti spring un totale di 300 900 e 2500 quindi ragazzi se state livellando il vostro personaggio questa è l'ultima grande occasione per accaparrarvi un bel po di livelli extra e quindi potenzialmente tirarvi su 15 18 livelli tanta tanta roba e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi un nuovo ban direttamente da ip games durante un competitive ad una persona che probabilmente non si meritava il ban mi spiego meglio stiamo parlando del giocatore kukwid australiano questo è il suo tweet ufficiale che dice bella roba fortnite competitive mi avete bannato senza ragione io stavo giocando prima di dirvelo vi faccio vedere visto vi faccio vedere la clip questo è il ragazzo in questione come vedete lui sta scendendo in una partita competitive nell'fncs e ad un certo punto dal nulla sbram schermata blu per due secondi fuori e lui ci rimane un pochettino di merzia perché dice what qualcuno ha logato nel mio account dice cosa è successo e poi gli arriva direttamente il ban come vedete in pre dalla disperazione si alza e cerca un rimedio che cosa è successo mi spiego meglio è una roba molto particolare come sapete epic games ha bannato il ragazzo il bambino di 9 anni per aver partecipato ad un competitive sebbene si sa che l'età minima è 13 anni è arrivato poi invece il ban di face dubs per teaming e adesso arriva il ban a questo ragazzo praticamente lui ha fatto due partite nella competitive dell'fncs il problema è che aveva il computer che non riusciva a reggere bene gli endgame e quindi che cosa ha fatto ha chiesto a suo fratello di loggare con il suo account in modo da non perdere tempo e switchare la postazione e appunto come si dice è poter partecipare ai alle partite successive il problema è che quando il fratello ha loggato per qualche strano motivo epic games ha ritenuto che ci fosse stato un doppio accesso o comunque un tentativo di cheating o quello che volete e quindi ha bannato l'account principale di questo ragazzo che giustamente ci è rimasto male sta cercando ovviamente di prendere contatti con il supporto di epic games perché il ban secondo me qua non ci stava anche se per regolamento in teoria non si può non si può cambiare postazione durante le competitive ed è una cosa che appunto poteva causare questo ban staremo a vedere cosa succederà e andiamo avanti a parlare di un altro argomento abbastanza curioso niente di importante per i giocatori di salva al mondo utilizzando l'overboard non si ha la possibilità di inserire la wrap quindi non possiamo utilizzare nessuna copertura sull'overboard buone notizie perché probabilmente dalla patch 13.00 quindi parliamo di stagione 3 questo problema sarà risolto e quindi sarà disponibile utilizzarla e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi e purtroppo non è una buona notizia come vedete siamo direttamente nei codici di gioco nei file sorgenti e non è presente ahimè sullo status server la patch 12.60 che cosa vuol dire questa cosa vuol dire purtroppo che c'è la remota possibilità che non arriverà questa settimana l'aggiornamento sarebbe veramente un peccato perché abbiamo già aspettato tanto sappiamo anche con il discorso della season allungata la pazienza tende un pochettino a venire meno nella maggior parte dei giocatori quindi ci auguriamo che magari nella giornata di oggi forse nel pomeriggio aggiornino gli status server vi posso dire per esperienza che se così non fosse allora sì dovremo aspettare purtroppo settimana prossima per vedere il nuovo aggiornamento e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi una roba molto interessante che invece non si sa se arriverà nella patch 12.60 o direttamente nella patch 13.00 siamo certi ovviamente che nella prossima season saranno ancora presenti gli elicotteri la mappa non cambierà e gli elicotteri non sono assolutamente sbilanciati penso uno dei veicoli di cui nessuno si sta assolutamente lamentando però c'è ovviamente una possibilità che alcuni giocatori riescono troppo facilmente a scappare con l'elicottero e quindi per chi non lo sapesse è presente nei file di gioco un audio davvero molto interessante che vi faccio sentire in questo momento sentite un po qua questo segnale audio che avete appena sentito non è altro che il tracciamento di un missile teleguidato per veicoli non sappiamo ne avevamo già parlato un pochettino qualche tempo fa ma è ritornato un pochettino questo post sui forum su reddit su trello e in quei posti lì ovviamente ci si aspetta che arriverà una nuova arma in grado di abbattere con un colpo solo o al peggio due gli elicotteri soprattutto quando qualche giocatore scappa riesce appunto a prenderlo e a filarsela insomma ragazzi tante cose stanno per succedere su fortnite tutti incrociamo le dita per la patch 12.60 ma per oggi il video news è finito io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao